Siete pronti per una storia che vi farà sbellicare dalle risate? Abbastanza, perché? Ci sono i buoni, toccate i cattivi, praterie sconfinate e i più grandi eroi che il Far West abbia mai conosciuto. Le mucche da latte. Quindi, tre mucche che non hanno mai lasciato la fattoria devono perlustrare tutto il Far West, per trovare un fuorileggio, catturarlo e incassare la taglia di 750 dollari. È tutto in soli tre giorni. Che cosa? Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Forti! Ma neanche al cavallo. La storia inizia con tre balde bovine che hanno un piccolo angolo di paradiso tutto per loro. Dove c'è sole, tra serenità, un giungolo fiume che tranquillo se ne va. Dai, prendi una mela. Però sta alla larga dal forno. Vogliono mettere all'asta angolo di paradiso. Ora è facile intuire che cosa accadrà. E cioè? Finiremo tutti al rosto. Ma chi mangerebbe mai una gallina? Coraggio, ragazzi. È ora di un piccolo intervento bovino. E per salvare la fattoria, le mucche diventano cacciatrici di taglio. Cerchiamo un ladro di bestiame di nome Alameda Slim. Mi sa che queste mucche ce l'hanno con me. Svelte! Salviamo la fattoria. Ah, mucche a cacciatrici di taglio. Ora le ho viste tutte. Avrà preso lezioni da quel babbeo d'un uo falone. Oh, oh! Oh, oh! Che bovine feroci! L'ultima che arriva alla stalla dorme in piedi!